No, perché qua c'è una nave spagnola che ha raccolto i migrati in acque maltesi e ha chiesto un porto alla Spagna e a Malta. Adesso che io debba rispondere di una nave spagnola che va in acque maltesi mi sembrerebbe molto bizzarro. Però si potrebbe andare a giudizio per accettare la libertà e potrebbe chiedere questo. Ma posso andare a giudizio anche per il coronavirus secondo qualcuno, però non ritengo che sia una mia responsabilità. Allora, ripeto, qua c'è una nave spagnola che è intervenuta in acque maltesi, ha chiesto un porto a Madrid e alla Valletta e ne devo rispondere io. Adesso non è che se sbarcano i marziani ne rispondo io, con tutto l'amore. Ma mi scusi, oltretutto, ma se la Spagna ha dato a disposizione il porto di Madrid e questo invece di andare a casa sua, è venuto in Italia, ne devo rispondere io. Mi sembra veramente questo surreale. Allora, a questo punto, se domani uno si sbuccia un dito in stazione Termini, andiamo a giudizio con Salvini. Mi sembra veramente eccessivo.